Buongiorno, benvenuti anche da parte mia, io sono Luigi Sartori del Dipartimento Territorio dell'Università di Padova, sono qua nell'azienda di Vallevecchia di Veneto Agricoltura nel Reparto 12 per parlarvi di agricoltura di precisione e delle sperimentazioni che abbiamo in atto qua. L'agricoltura di precisione è una forma di agricoltura che mira a fare la cosa giusta nel momento giusto e nel posto giusto, con la dose giusta, in altre parole studia la variabilità che c'è nei campi per gestirla nella maniera più corretta e questa gestione la fa con le moderne tecniche informatiche, elettroniche e di comunicazione che ci sono in commercio. Si parla quindi di utilizzo di sistemi di posizionamento satellitari, di telerilevamento da satellite e da drone, di sensori di tutti i tipi per misurare la variabilità nel terreno, nelle piante, sistemi di comunicazione integrati nel trattore e gestionali uniti al GIS, sistemi di supporto alle decisioni, ecco tutti questi strumenti avanzati vengono utilizzati in questa forma di agricoltura. È chiaro quindi che la definizione originaria di agricoltura di precisione si è evoluta nel tempo, in questi ultimi anni, proprio per l'inserimento di questi strumenti e quindi ha assunto altri, sono aggiunte altri connotati come ad esempio la mecatronica o la robotica, sono filoni che verranno sviluppati sempre di più nel futuro, ma anche la tracciabilità e la telemetria in tutta la filiera delle produzioni agricole. Tutti questi strumenti poi si concretizzano alla fine nella situazione attuale che è l'agricoltura 4.0, che si basa essenzialmente sul dato. I dati sono la ricchezza di questa forma di agricoltura, perché questi dati possono essere sfruttati, possono aumentare le produzioni, possono essere venduti e quindi molta attenzione si deve porre su questo. Tutte queste cose che ho detto si concretizzano poi, si sono concretizzate nei progetti che abbiamo in atto con Veneto Agricoltura. Da tanto tempo abbiamo cominciato a parlare, a sperimentare di tecnologie per l'agricoltura di precisione, che si sono alla fine concretizzate con due progetti di ricerca piuttosto importanti. Prima, se vi ricordate, i più vecchi almeno si ricorderanno, le giornate dimostrative sull'agricoltura di precisione, che sono state ospitate qua e sono state le prime manifestazioni sull'argomento. A parte questo, il primo progetto che si è concluso in questi settori qua, è il progetto AgriCare, che è un progetto live finanziato dalla comunità europea per un contributo di quasi un milione di Euro, partecipanti oltre Veneto Agricoltura e al Dipartimento Tesaf, anche Maschio Gaspardo e l'Enea di Roma. Questo progetto aveva l'obiettivo di coniugare le tecniche di agricoltura conservativa con quelle di precisione, in una sperimentazione di durata triennale che poi ha continuato nel tempo e si è diffusa su tutta l'azienda. Abbiamo confrontato su quattro colture contemporanee erbacee, quindi mais, frumento, soia e colza. Tre sistemi di agricoltura conservativa, quindi la lavorazione senza inversione di strati, lo strip-till e la non lavorazione confrontata con la tecnica tradizionale di eratura. Tutto questo con sistemi di agricoltura di precisione che all'epoca sono stati individuati nella guida autonoma semi-automatica di trattori e nella distribuzione del concime a dose variabile. I risultati, molto brevemente, sono positivi perché hanno fatto vedere come intanto si è individuata la tecnologia di lavorazione del terreno più consona all'ambiente di Vallevecchia e abbiamo visto che sempre queste tecnologie conservative abbinate all'agricoltura di precisione portano a dei vantaggi economici e anche ambientali perché si è visto che queste tecnologie riescono a ridurre le emissioni di carbonio in atmosfera. Subito dopo del progetto AgriCare che è cominciato nel 2014 e si conclude nel 2017, sempre su questi campi qua, abbiamo cominciato un altro progetto che è un progetto di eccellenza finanziato dalla Fondazione Cariparo di Padova del costo di 350 mila euro grossomodo e che coinvolgono tre dipartimenti dell'Università di Padova, il mio, il TESAF, DAFNAE e Geoscienze con anche il centro di Ateneo di studi e attività spaziali del CISAS. Questo progetto che si chiama AgriGNS Veneto ha l'obiettivo di utilizzare tecnologie di agricoltura di precisione inserendo anche in maniera automatica le informazioni che arrivano dai satelliti sia di posizionamento che quelli di telerilevamento. Tutto quanto concentrato sulla fertilizzazione azotata del mais e del frumento, quindi qua abbiamo una ventina di ettari suddivisa in due parti a rotazione frumento-mais in cui sono applicati alcuni metodi automatici di individuazione della dose di fertilizzante da adottare. In pratica noi brevemente utilizziamo i sistemi di supporto alle decisioni corroborati da indicazioni che arrivano in tempo reale dal satellite Sentinel per tararli nel migliore dei modi e offrire automaticamente all'agricoltore la dose esatta di concime azotato in ogni punto del campo. Questa informazione però non arriva all'agricoltore ma arriva direttamente alla macchina che sa esattamente in tempo reale cosa distribuire in quella zona. Tutto quanto quindi diciamo in maniera molto semplice e lo testeremo anche in maniera piuttosto precisa, scientifica, presumibilmente nella maniera migliore con cui viene fatta attualmente che non vorrei sbagliare ma viene fatta con una dose costante per tutti gli anni. Questo modo di procedere non è efficiente dal punto di vista agronomico ma neanche economico e vorremmo dimostrare questa cosa. Infatti una parte dei campi viene trattata normalmente come in maniera uniforme dall'azienda, le altre due parti con due metodi diversi di simulazione, una che tiene conto dei dati storici, l'altra invece che tiene conto delle previsioni climatiche nel futuro. Ecco queste due metodologie confrontate insieme ci permetteranno di fornire all'utente, all'utilizzatore delle informazioni molto precise su come deve concimare in ogni zona del campo. I risultati finora ottenuti sono abbastanza confortanti perché se non riusciamo a aumentare le produzioni almeno riusciamo a aumentare l'efficienza d'uso del fertilizzante, quindi avere le stesse produzioni con meno quantità di fertilizzante utilizzato. Tutto questo con l'ausilio delle macchine. Le macchine che abbiamo usato in entrambe le sperimentazioni che stiamo usando anche in questa recente sono dotate di due particolari dispositivi. Il primo è il sistema di guida semiautomatica nel trattore e il secondo sono le attrezzature a dose variabile essenzialmente gli spandi concime. Per quanto riguarda la guida semiautomatica, chiaramente il trattore è fornito di un'antenna che riceve i segnali dai satelliti di posizionamento e con una correzione differenziale RTK si vede dall'antenna che riceve il segnale di correzione, RTK che ha una precisione centimetrica attorno ai due centimetri, quindi sono operazioni che vengono fatte con estrema accuratezza. Questo dato di posizionamento viene elaborato dalla centralina elettronica, dal computer di bordo del trattore che oltre ad altre funzioni che dopo vedremo comanda un dispositivo elettrico che regola lo sterzo del trattore, per cui il conducente non deve preoccuparsi di tenere la traiettoria giusta perché è il trattore che provvede a questo. I vantaggi sono notevoli e immagino, li sapete già, nel senso che si va più veloci, la larghezza di lavoro è più alta, il trattorista si stressa di meno, non ci sono sovrapposizioni, si può lavorare anche di notte quando non c'è scassa visibilità e così via. Quindi vantaggi molto importanti. Questi vantaggi sono stati quantificati e praticamente riducono i costi della meccanizzazione del 6%, soltanto con l'inserimento di questa guida semiautomatica. La seconda grande categoria di macchine precise sono gli spandi concime a dose variabile. Qua vediamo uno spandi concime pneumatico che secondo il mio parere è la macchina che più si adatta meglio all'agricoltura di precisione per la distribuzione, soprattutto perché ha una buona uniformità trasversale e ha una notevole velocità di cambiamento della dose mentre sta lavorando rispetto agli spandi concime centrifughi che tuttavia comunque hanno anche loro un'elevata dose di precisione, soprattutto le versioni più professionali. Per fare la distribuzione variabile per la concimazione ma anche per tutte le macchine serve conoscere, quindi avere dei sensori che misurano il flusso di prodotto, bisogna sapere la velocità di avanzamento del trattore istantanea e la larghezza di lavoro. Sapendo questo si calcola velocemente la dose, il sistema, la confronta con quella che deve essere distribuita e nell'eventualità varia l'apertura delle serrande oppure la velocità di rotazione del rullo distributore in modo tale da dare istantaneamente la dose voluta. Tutta questa cosa funziona ancora meglio se le macchine operatrici comunicano agevolmente con il trattore, quindi il trattore deve essere dotato insieme con la macchina operatrice di un sistema ISOBUS che è uno standard, un protocollo di comunicazione che permette appunto la comunicazione di dati tra la macchina operatrice e il trattore. Un'altra attrezzatura che è stata usata per questa sperimentazione sono le miti trebbie che hanno il sistema di sensori per valutare la produzione, quindi dare una mappa di produzione che è molto utile per capire se tutto quello che abbiamo fatto va bene. Ecco, oltre a questo, e è uno degli obiettivi del progetto, riguarda anche i dati, perché una volta che la macchina ha registrato tutti i dati è in grado anche di trasferirli e quindi in tempo reale noi sappiamo quello che ha distribuito la macchina e quindi possiamo anche in qualche maniera certificare quello che è stato fatto effettivamente nel campo in modo diciamo sicuro senza ulteriori passaggi, quindi in maniera automatica anche il trasferimento di dati e la registrazione di dati della distribuzione. All'interno dell'agricoltura di precisione esiste anche la parte di irrigazione, perché appunto queste culture hanno bisogno di essere irrigate e hanno una grossa richiesta di acqua e quindi ecco perché bisogna in questo periodo utilizzarla al meglio e sapere dove usarla e in che quantità, ecco perché all'interno di Valle Vecchia stiamo facendo un lavoro di zonizzazione con dei sensori geoelettrici e delle analisi del terreno per capire esattamente come varia la variabilità dei terreni all'interno dell'azienda. Questo perché? Perché dei terreni per esempio sabbiosi hanno una richiesta di acqua completamente diversa da dei terreni argillosi o limosi. Ecco perché appunto questo lavoro ci permette di capire esattamente dove e come varia la variabilità e poter applicare delle dosi variabili di acqua, quindi inserire delle sonde per il terreno per capire anche l'evoluzione dell'idratazione del terreno per poter capire esattamente i volumi di acqua e poter dare per esempio più acqua in terreni sabbiosi e meno acqua in terreni argillosi. Questo perché? Perché ci consente di mantenere la pianta sempre al giusto stato di idratazione. Questo è fondamentale, la pianta che rimane nel suo massimo vigore con la giusta quantità di acqua permette di fare tutte le varie fasi fenologiche e ottenere quello che è la gestione migliore del sistema. Come potete vedere alle mie spalle abbiamo posizionato un sistema di irrigazione a goccia, quindi ad ali gocciolanti, che ci consentono di poter dare l'acqua giusta nel momento giusto e soprattutto qui in questa azienda dove l'acqua è poca e deve essere gestita nella maniera migliore possibile appunto per risparmiare la risorsa idrica, dobbiamo usarla con questo tipo di sistema a goccia. Questo perché? Perché lo possiamo fare grazie al sistema, al progetto Vustore 2 che ha messo a disposizione una serie di sistemi di idranti che trasportano l'acqua ai diversi appezzamenti facendo capo a un bacino di raccolta di acqua che abbiamo appunto nella parte centrale dell'azienda che consente di raccogliere, come è la base del progetto Vustore 2, di raccogliere l'acqua che arriva dai vari canali e grazie a delle saracinesche motorizzate utilizziamo quando l'acqua è buona, quindi ha una conducibilità bassa, la immagazziniamo e la utilizziamo poi per la fase di irrigazione. C'è una pompa che porta l'acqua ai diversi idranti e come vedete là in fondo l'idrante viene collegato e permette di poter distribuire l'acqua lungo tutto l'appezzamento e gestire, come dicevo prima, grazie alla zonizzazione che abbiamo fatto, l'irrigazione e dare l'acqua, per esempio ci sono delle sonde posizionate nelle diverse zone per capire quando quella zona ha necessità di essere irrigata oppure no. Questo appunto per gestire al meglio il bilancio idrico e per poter davvero risparmiare e ottenere comunque una cultura rigogliosa e poter dare reddività all'azienda con questo tipo di sistema anche in condizioni dove l'acqua è sicuramente scarsa e dove c'è il mare sicuramente avere un'acqua che potrebbe avere una salinità molto alta.